La qualità di Tavernello nasce con la passione e l'esperienza dei nostri soci che coltivano e controllano i vigneti più famosi. Tavernello li seleziona per voi per garantirvi la qualità e la genuinità dei migliori vini italiani perché il vostro vino di tutti i giorni non può essere vino qualsiasi e oggi bere un buon bicchiere di Tavernello è ancora più facile con la nuova confezione apri e chiudi Tavernello il vino dell'Italia a tavola